Le strade di Lizzano non si erano mai viste, così invase da manifestanti, segno evidente che il problema rifiuti è molto sentito in paese. Un serpentone di 3.000 persone ieri ha sfidato il freddo e sfilato per le vie della cittadina del vino. Adattiva Lizzano, associazione cittadina giovane e dinamica, va dato il merito di aver attirato con il Tam Tam in rete ben 18 sigle ambientaliste della provincia di Taranto ed altre provenienti dal Brindisino. Negli slogan della protesta si sono incrociati problemi antichi e nuovi, i rifiuti provenienti da Giuliano, che arriveranno a partire da oggi nelle tre discariche Ecolevante, Italcave e Vergine già al centro di polemiche e problemi ambientali. Ma a Lizzano si protesta anche per la tremenda puzza che ormai da tempo invade le case e crea problemi di salute ai cittadini. Erano soprattutto le donne, le mamme insieme a bambini e ragazzi a portare in giro striscioni con scritte di dolore, rabbia e denuncia. Particolarmente toccante la testimonianza di una pediatra, Antonietta Doria, madre di quattro bimbi stanca di dover prescrivere medicinali per la gola e le vie respiratorie a tanti bambini del paese ogni volta che il vento soffia dalla discarica Vergine, una delle più grandi d'Europa per rifiuti speciali. Quella puzza, dicono i cittadini, sta causando gravi problemi alla salute come asma, neoplasie, tiroidismo, leucemie. I più colpiti sono bambini ed anziani. Nel corteo, mescolati alla gente, anche il sindaco del paese, Dario Macripò, ed i vice di Fraganiano, Monteparano, Faggiano e Pulsano che hanno sfilato con fascia tricolore. In provincia di Talento ci sono oltre 50 discariche dalla manifestazione. Non solo no, ma anche proposte concrete come la richiesta di controlli sulla salute dei cittadini, sulle falde e sui terreni, l'introduzione di un nuovo modello di gestione dei rifiuti con impianti di riciclaggio.